La Piazza Fontana è veramente l'archetipo del mistero e del tradimento di una parte dello Stato nei confronti dei cittadini in quanto è stato consentito che la strage avvenisse e poi si è fatto di tutto per coprire negli autori responsabili. Nel contempo però, per fortuna, non possiamo più definire un mistero perché in tutti i processi di questi anni e anche nelle ricerche che io e Andrea Ceresina abbiamo fatto anche dopo le sentenze definitive, l'insieme di elementi porta ad una sola conclusione. Odine Nuovo è stato responsabile della strage, degli attentati del 12 dicembre e una parte dei servizi segreti hanno coperto quanto è successo. La strage di Piazza Fontana è stata l'inizio di una guerra. L'Italia non aveva mai visto una cosa simile. Non era un singolo episodio terroristico, era l'inizio di una storia, l'inizio della storia delle stragi nel nostro paese. È molto probabile che il piano che si è sviluppato nel 1969 fosse quello di una serie di attentati dimostrativi, e ce ne sono stati 17, che dovevano tenere il paese sotto il tallone della paura, ma senza giungere ad un eccidio. Il 12 dicembre è avvenuto verosimilmente qualcosa di più, gli esecutori hanno pensato che fosse il momento buono per accelerare, per scatenare qualcosa che verosimilmente dovrà somigliare ad un golpe, e sono andati oltre quello che era il mandato che avevano ricevuto. Ciò non togli che poi siano stati protetti, perché se non fossero stati protetti avrebbero potuto dire tutto quello che era avvenuto prima e quel patto con la Stato che comunque rimaneva non dicibile. Io come giornalista comincio nel 2009 a intervistare in Sudafrica il generale Maletti, che è l'ex capo del SID, scappato all'estero nell'80 dopo la condanna per i depistaggi su Piazza Fontana, e lui riceve una serie di segnalazioni da alcune sue fonti fascisti, padovani, milanesi, che gli dicono appunto che vogliono scaricarsi la coscienza, vogliono parlare di questi argomenti. Io lo aiuto in qualche modo a fare questa ricerca, che parte da elementi nuovi, da elementi di novità, che pian piano mette insieme tutti questi elementi e cerca di costruire un puzzle che fino ad oggi è rimasto completo solo a metà. Abbiamo cercato di mettere al loro posto gli ultimi tasselli che restavano spaiati. Piazza Fontana, dal mio punto di vista, è l'inizio di quella fase storica in Italia che in un momento in cui l'Italia era scossa dalle lotte dei lavoratori, dagli scioperi, c'era una generazione che chiedeva un cambiamento strutturale della società e in quel momento cominciano a sparare le bombe, quindi Piazza Fontana e poi tutte le altre. E questo in qualche modo è l'inizio di un processo che ferma questo cambiamento che tutti quanti chiedevano. Secondo me l'Italia di oggi, quindi quella che conosciamo, il precariato, la mancanza di diritti, il viene in meno di una serie di valori che 50 anni fa erano dati per scontate addirittura, secondo me è frutto anche di Piazza Fontana. È stata combattuta nel nostro paese una guerra, il nostro paese era un paese di confine tra i due blocchi, tra il mondo occidentale e il mondo sovietico e in questa terra di confine è stata combattuta una guerra senza esclusione di colpi, con morti e feriti, anche a colpi di stragi.